chico fila per il momento per il momento è meglio che non vengo quelli tutti non si mettono la maschera si perché quello la adesso ci ho detto che si deve esplicare a fare la macchina ci ho detto che si deve esplicare per la macchina che cazzo ci vuole a fare l'appuntamento ha detto che l'ha fatto però ancora non ci è arrivato però questa volta che sono preso una macchina buona di serve qualcosa di fuori dici ciao è certo che le porto a casa